Giuseppe Santalucia, allora di nuovo bufera tra magistratura e politica perché il ministro della difesa Crosetto ha parlato di opposizione giudiziaria e ha citato magistrati che avrebbero detto di voler fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni. Allora dico subito che ci siamo sentiti oggi col ministro, ha avuto la cortesia di chiamarmi e fuori Italia e quando ritornerà probabilmente ci incontreremo. Che cosa le ha detto il ministro Crosetto nella telefonata di oggi? Molto velocemente perché ovviamente abbiamo parlato poco all'estero che ha accolto questa preoccupazione da qualche espressione che gli è stata riferita, mi è parso di capire il convegno, congressi di magistrati. Ma il problema è proprio qui, nella notizia che ha dato alla stampa nell'intervista di domenica mattina invece la cosa era ben diversa, si trattava di magistrati che si concertavano tra di loro per usare i poteri giudiziari al fine di fare opposizione al governo. Questo è inaccettabile, inquietante perché siamo, insomma è versione in buona sostanza. Ma l'ha detto anche al ministro Crosetto questo? Beh, ho cercato di spiegare le ragioni della mia inquietudine perché dare una notizia di questo genere alla pubblica opinione ovviamente ha un impatto fortissimo, i magistrati sono al servizio del paese, pienamente fedeli alla Costituzione, rispettosissimi delle istituzioni dello Stato. E Crosetto cosa le ha detto? Beh, molto velocemente che ci incontreremo ma che comunque il suo intendimento non era quello di accusare la magistratura di preparare delle azioni dolose per aggredire il governo, credo che qualcuno gli ha riferito qualche notizia di qualche frase espressa in qualche convegno ma nessuno pensa di lavorare fuori della Costituzione. Quindi ora non si possono commentare brandelli di frasi estrapolate da un contesto in una discussione che probabilmente ha toccato le prossime riforme costituzionali ma nella misura in cui queste incideranno anche sull'assetto del giudiziario. Ma da questo a dire che esiste un'opposizione giudiziaria al governo, diciamo che la distanza è enorme, incolmabile, è quello che mi inquieta. Poi ci può anche essere un'espressione che può piacere, non può piacere, ma non ci saremmo preoccupati di questo. Allora voglio chiedere a Mario Secchi perché appunto ci conferma anche adesso il dottor Santalucia che il ministro Crosetto non solo cerca di minimizzare da ieri ma addirittura ha chiamato il presidente dell'ANM. Ecco, ma Crosetto è preoccupato perché sa qualcosa che noi non sappiamo? No, Crosetto ha detto una cosa che è nota e cioè che ci sono diciamo correnti della magistratura associata che hanno un programma ideologico molto netto che è in aperto contrasto con il centrodestra che adesso è al governo. Dove naturalmente il governo... E tu stai dicendo che una parte della magistratura è politicizzata e contro il governo? È politicizzata e contro il governo e naturalmente nell'amministrazione della giustizia questa impostazione di tipo culturale e ideologico si fa sentire come? Ti faccio un esempio, Lilli, la questione del giudice apostolico che è molto dibattuta, io non do un giudizio di valore sulle persone ovviamente, sto diciamo ai fatti che ha sollevato naturalmente la reazione dell'ANM e così via, però sta di fatto che con quei provvedimenti, con quell'interpretazione della legge si smonta un provvedimento del governo. Ce ne sono stati anche altri magistrati, non solo la giudice apostolico. Non sono molti, il tema è questo. Quindi sono tanti i magistrati condiciziati. Assolutamente sì. Rapido che così do la parola cance e poi di nuovo... Ma aggiungere una cosa, non solo in fase di interpretazione barra applicazione della legge, che è un tema, ma addirittura nella fase di formazione della legge, cioè la magistratura quando ha notizia di riforme, spesso e volentieri si propone, ormai la storia degli ultimi trent'anni è questa, come terza camera. Ok, no, però aspetta, adesso poi le do la parola, perché questo diciamo sembrava ormai acclarato che la magistratura e i magistrati, se viene discussa una legge, una riforma che intacca o dovesse intaccare l'indipendenza della magistratura, mi sembra ovvio che loro debbano essere interpellati. Vabbè, si spingono troppo in là i magistrati, Andrea Scanzi ha ragione, Secchi? Allora, intanto si è spinto molto in là Crosetto, perché dire che oggi e ieri sta minimizzando, per certi versi aggrava quello che ha detto Domenica, perché Crosetto non è che parla a caso. Crosetto rilascia un'intervista sabato che esce Domenica per il Corriere della Sera e dice delle parole chiare. Quando sei un ministro della difesa devi sapere benissimo gli effetti che avranno le parole, che tu pronunci e scrivi. Nel momento in cui dici che l'unica paura che hai nel futuro relativamente a questo governo è che possa saltare per colpa di parti sostanzialmente deviati dalla magistratura, è del tutto ovvio che tu ne sei consapevole, perché Crosetto quando parla sa quello che dice. Io ci vedo tre aspetti in questa vicenda, molto velocemente. Il primo, un déjà vu enorme, perché il dibattito che stiamo facendo è uguale a quello che si faceva 15, 20 anni fa, 25 anni fa, quando Berlusconi ce l'aveva con le toghe rosse. E questo è uno degli elementi tipici dei rammelloni che non ha politicamente nulla di nuovo. A livello di giustizia la Meloni è una Berlusconi bionda, uguale, identica. Crosetto, altri due aspetti. Il primo, Crosetto quando dice queste cose ha secondo me un effetto, vuole avere un effetto politicamente intimidatorio nei confronti della magistratura. Perché è del tutto ovvio che se il ministro della difesa dice certe cose, non è che poi un magistrato è sereno quando eventualmente deve fare delle indagini. E anche le decisioni che sta prendendo Nordio, la decisione di ieri, dare le pagelle ai magistrati, c'è un rapporto quantomeno conflittuale. L'ultimo elemento, e qui è chiaro che Santa Lucia non può dirlo perché probabilmente non lo sa, ma proprio perché queste voci e queste parole le ha dette Crosetto, che sa di cosa parla, io ho la sensazione che lui forse qualcosa sappia. E che quindi abbia detto tutto quello che ha detto perché sa che oltre alle inchieste sulla Santanchè, su Del Mastro, i conflitti di interesse relativamente a Sgarbi, ci sia o ci possa essere qualcosa che è in arrivo. E a quel punto cosa fa? Fa la tattica della vittima. Cioè dice, attenzione, può arrivare qualcosa? E è la stessa tattica che ha fatto per esempio Gasparri con Report. Io attacco anticipatamente Report perché so che da qui a due mesi uscirà un'inchiesta giornalistica contro di me. Che è una tattica del fare la vittima su cui la Meloni e prima ancora Berlusconi sono sempre stati maestri in questo paese. Devo dare diritto di replica al dottor Santa Lucia quando dice che c'è una parte della magistratura che è ideologizzata e politicizzata. Non ha ragione? No, non ha ragione. Lo dimostra proprio l'esempio che ha messo in campo. Il caso dei decreti dei provvedimenti di non convalida dei trattenimenti di immigrati clandestini a Catania è la prima applicazione del decreto Cutro. Si è vestita di ideologizzazione un magistrato che non appartiene a nessuna corrente, non è nemmeno iscritta all'Associazione Nazionale Magistrati. Ma soprattutto si rivela che non si conosce come lavorano gli uffici giudiziari. Quando vi è una nuova legge, per esempio il decreto Cutro, si fanno le riunioni all'interno degli uffici giudiziari. Si studia, si elabora una linea comune di interpretazione e l'atto è il primo giudice che si trova ad emettere dei provvedimenti. Quindi lì si è attaccato un magistrato, ma in fondo quella è la posizione di un'intera sezione specializzata. Le sezioni specializzate lavorano così, di un intero tribunale. Vogliamo dire che il tribunale di Catania è ideologizzato? Sta suggerendo che il governo vorrebbe avere magistrati asserviti? È quello che sta cercando di andare in quella direzione? Io credo al di aula del governo che in tutto questo dibattito pubblico quello che emerge secondo me è un'idea per cui il sovrano è solo chi è legittimato dagli elettori. Tutti gli altri organi che appartengono pure essi alla sovranità, la magistratura esercita la sua funzione in nome del popolo italiano ed è dentro la Costituzione, ma non è eletta. E allora per il fatto di non avere il consenso è come dire servente. Noi siamo serventi, ma rispetto alla comunità, allo Stato, alla Costituzione e non al governo. Sicuramente se questo fosse il caso sarebbe gravissimo. Ora lo scontro tra politica e magistratura credo sia abbastanza antico in questo Paese. Forse quello che è nuovo e nel caso specifico quello che è paradossale sono le modalità. Dovremmo sapere a che cosa si riferiva esattamente il ministro Crosetto quando ha fatto quelle dichiarazioni, perché sembrava riferirsi almeno nell'intervista e anche nei post che ha fatto su Twitter successivamente a qualcosa di abbastanza specifico. Ora da quello che riporta il dottor Santalucia sembra che lo stesso Crosetto abbia sminuito e forse non c'è niente di sostanziale. Però ecco, forse erano cose che andavano dette nelle sedi opportune, forse non va detto sui social network che il ministro è disponibile a parlare con il Copasir, anche perché sa benissimo che non è che il Copasir lo va a chiamare, semmai è il governo o il ministro stesso che deve chiedere di essere audito. Quelle sedute sono normalmente secretate, quindi dopo aver dato queste notizie in pasto alla pubblica piazza probabilmente è il Parlamento il posto dove il ministro deve andare a riferire. E poi, lo dico anche da giornalista, in questo studio ieri sera c'è stato un vostro ospite, giornalista e ex politico vicino al governo, Italo Bocchino, che ha letto delle dichiarazioni o quantomeno sembrava leggere delle dichiarazioni che quando poi tu Lilli hai chiesto dove le avesse prese, chi le avesse dette, dove fossero state fatte quelle dichiarazioni, non ha risposto invocando il segreto professionale e le fonti giornalistiche. Insomma, lo trovo abbastanza grave perché appunto se, come dici tu, come abbiamo sentito questa sera, si fa in realtà riferimento a cose dette in convegni pubblici e non ci sono appunto segreti o riunioni di logge segrete della magistratura, allora forse quelle frasi non sono state dette. Quindi perché raccontarle in televisione senza poi dare dei dettagli? Cioè si sta creando un polverone, uno scontro istituzionale senza però far capire al pubblico di che cosa si sta parlando e questo è gravissimo. Mario Secchi, tu volevi intervenire? Sono fatti, ripeto, noti, cioè sono gli ultimi trent'anni del cortocircuito e la storia del cortocircuito tra politica e giustizia. Che c'è un'impostazione culturale e ideologica, ripeto, di una parte della magistratura, che avendo questo retroterra politico-culturale, poi interpreta la legge sulla base di questi pilastri, di questi fondamenti. Non si può far finta che il problema non esista, il problema c'è. Sulla base di questa impostazione, da tribunale a tribunale, procura a procura, giustizia penale, civile, amministrativa, sappiamo cosa succede. Succede che... Allora, ti devo solo, mi urge, mi corre l'obbligo perché, allora, se diciamo questa è la lettura del mondo dei magistrati... La magistratura lo sottolineo venti volte. No, certo, hai detto, non tutta la magistratura... E non il presidente Santa Lucia, così tagliamo la testa a tolto. Non tutta la magistratura, quindi c'è anche una parte della magistratura molto di destra? O c'è solo una parte della magistratura molto di destra? Voglio dire, adesso, sempre fa parte del grande... Ma poi si risolve questo problema, qualora fosse così? Riformando, secondo me, tutta una serie di istituti, a cominciare dalla scuola della magistratura, che ha bisogno di pluralismo, no? Tanto per dire. Quindi formazione del magistrato, accesso alla carriera, naturalmente valutazioni qualitative e quantitative del lavoro del magistrato, fino ad andare alla questione molto dibattuta, sul quale si è fatta e si fa i test psicoattitudinali. Certo, lo fanno le forze dell'ordine e non capisco perché non lo debba fare la magistratura. Andrea Scanzi? Allora, due cose rapide. Dispongono della vita delle persone, cioè vorrei dire. Arrestano, finiscono, decidono, scarcerano. Insisto, domenica, Crosetto ha lasciato intendere che ci fosse qualcosa di nascosto internamente alla magistratura, mentre si riferiva, lo ha detto anche Secchi, lo ha detto ieri Bocchino, ha una sorta di rassegna stampa che è stata fatta girare ad alcuni giornalisti, in alcune chat, in cui si citavano anche frasi che ha detto lui. Quindi erano cose pubbliche, non era nulla di nascosto altro. Sì, no, ma Mario Secchi sta dicendo che forse è legittimo, ma aggiungo io, forse poco opportuno. E c'è un problema di urgenza di riformare la giustizia e di inserire test psicoattitudinali anche? Dipende come la vuoi riformare la giustizia, perché la sensazione che ho io è che la destra italiana abbia un concetto di magistratura per cui se sei politicizzato come piace a te va bene, altrimenti non va bene. Il test psicoattitudinale, che secondo me è un abominio applicato alla magistratura, era una vecchia idea di litiogelli, che ha imbarazzato persino questo governo. Cioè lo stesso governo ha detto forse è un po' troppo. Cioè, quando prima tu domandavi a Santa Lucia se questo governo vuole semplicemente trasformare la magistratura in mera esecutrice, mi veniva da dire che era una domanda retorica, era il grande sogno anche di Berlusconi. Quando tu fai determinate scelte, come la riforma Nordio, quando tu punti sul premierato, quando tu fai dossieraggio sulla giudice di Catania perché ha usato, secondo lei, applicare la legge e non contesti la legge in sé o la sentenza, ma contesti il passato, quindi fai dossieraggio, la stessa cosa che faceva Berlusconi, è di tutto ovvio che tu hai una idea per cui la magistratura va bene se non rompe le scatole. Nel momento in cui rompe le scatole a te non va bene perché prima c'è il potere esecutivo e poi c'è la magistratura. Ma è un dato di fatto, la Meloni non ha niente di nuovo anche in questo tema, è figlia dei governi berlusconiani dove la legge ad personamma era normale, dove la prescrizione era normale, dove la cancellazione dei reati che dovevano colpire Berlusconi era normale. è figlia di quella politica, è lì la Meloni, non è che è scesa dal pianeta Venere, è quella la Meloni e la gente che è accanto alla Meloni che spesso c'era anche con i governi berlusconi. Intanto nella storia, diciamo, della destra italiana le cose non stanno così perché la destra è stata, ha supportato durante Mani Pulite l'azione, un pezzo della destra ha supportato l'azione dei magistrati. Infatti sta tradendo quello che era una volta la destra sociale, certo. Non c'è nessun tradimento, c'è una tua lettura storica che è parziale. E invece la tua è lucida e imparziale, tu sei notoriamente imparziale e obiettivo, certo. Eri il capo ufficio stampa della Meloni, c'è proprio la voce dell'imparzialità applicata a Giorga Meloni. Non c'entra niente. Come io che parlo di Pink Floyd, sono un po' più imparziale. Sì, ma tu hai scritto un libro che lascia a cura, che vuoi. Eh beh, l'ha chiamata per nome. Adesso ci arriviamo all'interno. Io vorrei... La magistratura, finché non si libera della politicizzazione delle correnti e, diciamo, di un'attività pubblica evidentemente orientata, straorientata, io voglio dire, contro il centrodestra, ebbè, mi dispiace, ma c'è un problema di pregiudizio. Chi è orientato contro il centrodestra? Buona parte della magistratura. È un tema culturale. È inutile che ci giriamo. Allora... Ma ancora le toghe rosse, insomma, Mario. Siamo ancora... Ah, rossissime, certo. Rossissime. Giorgia Meloni e il suo governo disastroso, un titolo molto soft. Il tuo nuovo libro che è uscito oggi, per Paper First. Allora, un ritratto molto duro, come si evince anche dal titolo della Presidente del Consiglio. e in questo libro racconti anche di avere bloccato su WhatsApp Giorgia Meloni dopo l'ennesimo delirio, tra virgolette, ti cito. A cosa ti riferisci? Intanto sì, è il racconto di Giorgia Meloni e di questo governo. Rivendi quel titolo perché credo che sia uno dei peggiori governi nella storia repubblicana. Diciamo, se la gioca con i peggiori governi berlusconiani, spiego perché in queste 200 pagine. Dai fallimenti alla classe dirigente imbarazzante, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel libro ci sono tante cose. Ma il blocco su WhatsApp è molto velocemente. Mi sembrava giusto raccontare tutto ai lettori. Io ho avuto un rapporto discreto e decente con Giorgia Meloni. Non eravamo amici, ma avevo un rapporto decente. È venuto anche a vedermi a teatro. Non ho nulla da dire contro di lei a livello umano. Trovo che nel 2020 lei abbia utilizzato dei toni feroci nei confronti non tanto del governo, ma atteggiamenti antiscientifici, pronovax, fingeva di non vivere nel dramma in cui c'eravamo, lockdown, il covid, eccetera. Questa cosa fa sì che ci si allontani moltissimo di lei fino a quando, nel settembre del 2020, lei mi scrisse un messaggio particolarmente duro e feroce, che peraltro era dettato da un mio posto in cui non parlavo di lei, ma parlava addirittura di un fatto di cronaca nera che voi ricorderete, la morte del ragazzo Willy Monteiro Duarte, in cui io sostanzialmente dicevo quello che è inattaccabile, cioè che purtroppo quella morte era figlia anche di criminali che provenivano dalla destra, che non voleva dire che era colpa della Meloni, ma c'era quella cultura lì. Lei mi rispose in maniera molto dura, sostenendo peraltro che uno dei quattro criminali fosse grillino, perché seguiva Virginia Raggi, eccetera, eccetera, e io le scrisse una cosa tipo, sai che c'è Giorgia Meloni, non abbiamo nulla in comune, chiudiamola qui e l'ho bloccata. Mi sembrava giusto raccontare anche questo, ma nel libro c'è molto di più. Diciamo che sono curioso di leggere i pareri dei meloniani, perché voglio che confutino le critiche che io rivolgo nei confronti di questo momento, ma ne confutino sul serio. Il primo che lo leggerà sarà Mario Secchi. Lo leggo, d'altronde con quel titolo posso non leggerlo. Ci sei anche tu a me nel libro. Ci sei anche tu Mario Secchi, quindi lo devi comunque leggere. Vi faccio vedere il...